Non mettere tutte le uova nello stesso paniere. Questo antico detto vale anche in finanza e chi lo segue protegge i propri soldi. Oggi ti spiegherò come fare. Ciao sono Davide, sono un consulente finanziario indipendente e aiuto le persone a raggiungere i propri obiettivi sfruttando correttamente i mercati finanziari. Oggi parleremo di diversificazione, che cos'è e come poterla sfruttare correttamente. Ci addentriamo più in profondità così ci allontaniamo dalla mentalità dell'investitore bambino. Se non hai colto riferimento ti lascio il link in alto. Il principio è semplice, non mettere tutte le uova nello stesso paniere. Infatti se noi investiamo tutto il nostro generale in un unico strumento che sia un'azione o un'obbligazione ci esponiamo al rischio di perdere tutto il nostro capitale se questa società dove investito dovesse riscontrare delle difficoltà. Il motivo per cui la maggior parte delle persone investe una parte o tutto il capitale in pochi strumenti è perché ha la ricerca di rendimenti stellari. Infatti la diversificazione diluisce il rischio ma diluisce anche i rendimenti. Ma a meno che voi non siate Warren Buffett solitamente chi cerca rendimento non lo trova. Prima di tutto è necessario comprendere il concetto di correlazione. Facciamo un esempio. Supponiamo di vivere su un'isola con due sole società quotate. Piovosa SPA che produce ombrelli e solare SPA che produce creme solari. Se ci attendiamo giornate di pioggia acquisteremo piovosa SPA. Se invece ci attendiamo bel tempo acquisteremo azioni di solare SPA. Queste due società sono correlate negativamente. All'apprezzarsi di una corrisponde un depreciamento dell'altra. Il prevalere di una delle due condizioni sole o pioggia per un periodo prolungato nel tempo potrebbe significare la fine per una società e lo straordinario sviluppo per l'altra. Investendo tutto il mio capitale su una sola delle due società il risultato non può che essere o un top o un flop. In alternativa posso acquistare entrambi dimezzando il rischio di perdere denaro e poiché non correlate tra di loro sfruttando i ribilanciamenti posso creare valore da ognuna. Farò un video dedicato proprio su questo argomento. Se estendiamo il ragionamento ai mercati finanziari globali immaginate di dover investire tutto il vostro capitale su un'unica società. Se per varie difficoltà quest'ultima dovesse fallire voi avete perso tutti i vostri soldi. Immaginate invece di acquistare 20 società diverse. Se anche solo una di queste per difficoltà dovesse fallire voi avete perso solamente un ventesimo del vostro capitale. A oggi esistono numerosi strumenti in grado di diversificare i nostri investimenti su più asset class, azioni, obbligazioni, materie prime, su diverse aree geografiche Europa, America, Asia e anche su diverse valute. La diversificazione se sfruttata correttamente non ci aiuta solamente a diluire i rischi ma ci aiuta a costruire un portafoglio ben diversificato e robusto che possa resistere a tutte le fasi del ciclo economico. Infatti le asset class hanno andamenti differenti rispetto a quello che è la situazione economica. Vi mostro una tabella per comprendere meglio. Per esempio in un contesto di elevata inflazione e di elevata crescita, ci troviamo nel quadrante in alto a destra, le azioni daranno sicuramente un forte contributo al nostro portafoglio. Ma in un altro contesto economico, per esempio con bassa inflazione e bassa crescita economica, siamo nel quadrante in basso a sinistra, le obbligazioni governative a lungo termine daranno il loro contributo mentre le azioni faranno fatica. Diversificare è l'unico passo gratis in finanza e ci permette di costruire un portafoglio robusto che vada bene per i diversi contesti economici e che ci eviti di concentrare tutto il nostro capitale su pochi strumenti. Spero di esservi stato utile a comprendere l'importanza della diversificazione. Mi raccomando iscrivetevi al canale così migliorerete la vostra consapevolezza. Un saluto dal vostro consulente di fiducia.